Siamo sicure che non ti si sporcheranno nelle spalle e neanche la collanina Proprio un velo, proprio un velino piccolo 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 Nessuna imperfezione assolutamente, praticamente non hai rughe, non hai niente Sulla fronte, perfetto, 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 perfetto così Massaggino per riattivare la circolazione del viso Comunque insomma non mi va di far uscire le mie clienti con tutti i capelli arruffati Ciao Anastasia, come stai? È già un po' che non ci vedevamo Beh sì E sei pronta per farti coccolare bene bene? Per controllare un po' la pelle? Per fare qualche trattamento un po' speciale? Perfetto tesoro Allora senti intanto ti metto una mantellina In modo da evitare che tu possa sborgarti No, la collana non importa toglierla Non si rovinerà Ti metto la mantellina sopra Perfetto? Non si rovino Solleviamo un po' i capelli, ecco, perfetto, bene, così almeno siamo sicure che non ti si sporcheranno nelle spalle e neanche la collanina. Questi capelli sono sempre più lunghi e sempre più belli, amore, però mi sembrano un pochino rovinati alle radici. Eh sì, lo hai notato anche tu, vero? Sì, sono tutti spezzati. Ti consiglio di andare da una brava trecologa. E' una mia amica, sì, quando abbiamo fatto poi ti farò avere il numero, te lo darò, va bene? Allora, intanto ti metterò comunque questa piccola passadina, questo cerchietto, per bloccare un po' i capelli e essere sicure che non si impiastriggino. Ecco qui, bene, così siamo sicuri che stanno indietro. Bene, 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 tesoro. Allora, ti spiego un attimo cosa andremo a fare. Innanzitutto userò un panno di quelli in microfibra specifici per la detersione del viso e per, appunto, per una pulizia profonda e per lo struccaggio e sono di quelli che si possono usare semplicemente solo con acqua. Poi, una volta che ti avrò struccato e pulito il viso con questo panno, procederemo per gradi. Ok, andrò ad esaminare bene la tua pelle e poi faremo un piccolo trattamento con il dermaroller. Dopo il dermaroller andremo ad applicare una maschera peel off. Sì, e poi alla fine un po' di cremina, certo. Bene, allora, aspettami che vado a prendere il panno, ok? Tu intanto rilassati, rilassati, stai qui. Eccomi qua, sono tornata con il panno. Vedi, è un panno di microfibra. Molto, molto morbido, molto morbido. E è semplicemente lavato con acqua, non c'è altro. Ecco, andiamo a pulire bene la faccia, il viso. E poi togliamo questo velo di rossetto che hai applicato. Ma è proprio poco, eh? Sì, si vede. Ne avevi messo pochissimo. Proprio un velo, proprio un velino piccolo, piccolo, piccolo. Adesso andiamo a struccare invece gli occhietti. Vado piano perché comunque ci sono alcune tipologie di pelle che non sono molto resistenti allo strofinamento. Infatti, chi ha una pelle molto, molto delicata, è bene sempre che eviti di sdruccarsi solo con il panno, ma comunque il grosso, di toglierlo, soprattutto nella zona intorno agli occhi, con degli oli. Quindi, no, la tua pelle non è particolarmente delicata, lo so, sembrerebbe perché comunque è una pelle molto chiara, per cui si può pensare che sia delicata. Ma poi, sai, ci sono pelle che sono più reattive allo strofinamento e altre pelle invece che sono più reattive alle sostanze chimiche, per cui, insomma, ogni viso è una storia a sé. Bene, ma vedo che non viene via bene tutto. Ah, avevi fatto un po' di semi permanente, ho capito. Quindi è un trucco tatuaggio per quello che ti rimane sempre questo alone un po' azzurro. Ah, e se ti viene annoia che fai? Ah, sì, giustamente, un pochino. Lo puoi coprire anche con altri colori, hai ragione. Bene. Adesso che abbiamo deterso la tua pelle, andiamo con questa lente, andrò ad esaminare. I tuoi pori. Ah, no, ma è una grana perfetta, finissima. Accipicchia. No, no, nessuna, nessuna imperfezione, assolutamente. Praticamente non hai rughe, non hai niente. Niente, niente. Guarda, una pelle meravigliosa. Una pelle meravigliosa, veramente meravigliosa. Sì, perché l'acqua più lungo serve magari per le macchie, le cicatrici, oppure per la rughe, ma visto che tu non hai nessuno di questi problemi, lo useremo solo a scopo preventivo e soprattutto per fare un peeling, giusto per togliere un po' le cellule morte. Va bene. Eccolo qua, vedi? Sì, ne hai già visti in giro, certo, sì, sì, li vendono anche su Amazon. Adesso, vedi, già questi aghetti piccoli, 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 sono proprio 0,2 mm, quindi serve veramente solo a fare una abrasione leggerissima, quindi tu rilassati, 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 cominciamo. Senti, no, non brucia, infatti, certo, chi usa il termaroller con gli aghi più profondi, insomma, più lunghi, ovviamente un pochino di dolore lo può sentire, un pochino è normale, perché comunque sono aghi che vanno ad infilarsi nella pelle. Questi invece sono talmente corti che servono solo ed esclusivamente a fare una microesfoliazione superficiale. Adesso andiamo anche in quest'altro verso, sulla fronte, perfetto, 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 così. A volte viene utilizzato anche per far assorbire meglio i prodotti. No, noi adesso facciamo l'esfoliazione e poi dopo ti vado ad applicare la maschera peel off, certo, sì, quelle che vanno fatte asciugare un pochino e poi le si strappano via quando hanno fatto il loro lavoro. L'importante è che tu ti goda questo trattamento, che tu ti rilassi, vero? Sì, certo. Era tanto, sai, non si può sempre andare in un centro estetico. Comunque lo sai che da me, insomma, un po' sticino te lo trovo sempre, eh. Sentimi a colare, eh, sono i gatti. Qui da me ce ne sono sempre tanti. D'altra parte che fai? Quando vengono, che vogliono mangiare, come fai a mandarli via? E allora? Si sono accasati. Anche qua, adesso andiamo un pochino in verticale. Perfetto, perfetto, così. Certo, ovviamente, non vado nel contorno occhi, quello era sottinteso, tesoro. Era sottinteso, sottinteso, certo, tesoro, bello. Ok, perfetto. Avevi paura del sangue? Eh, ma perché su internet fanno vedere sempre un sacco di cose, ma non sono relative a tutto quello che faccio io qui. Ti ripeto, magari, quando ti hai visto i video del dermaroller, si erano appena fatte un dermaroller con gli aghetti lunghi. Bene, allora, Anastasia, adesso andrò ad applicarti questa. La conosci? Bene. E' la maschera Bilof di Avon, la Enio Ultimate Gold. E' un pochino forte, sì. Però, magari, stiamo più leggere poi con le creme dopo, eh. Dai, tesorino. Allora. E' quella per le belli dai 35 ai 45 anni, specifica. Però, insomma, io la uso anche prima, perché è una crema che uno l'adopera ogni giorno, ma così una volta ogni tanto possiamo fare anche un trattamento un pochino più intensivo, eh. Anche se non ne hai particolarmente bisogno, ma come si suol dire, prevenire è meglio prima di correre ai ripari, poi, quando è troppo tardi. Un po' sul mento. Ora, quando io ti lascio un pochino da sola, tu puoi rilassarti, anche dormire se vuoi, eh. Tanto un po' ci vuole, perché la maschera asciughi un pochino di tempo, è necessario. Vedi, sta già tirando. Vedi, sta già tirando. Ebbè, è normale, l'importante è che non bruci, come la senti sulla pelle, la senti delicata e fresca, benissimo. Ecco, allora va bene, ti ripeto, l'importante è che non bruci, perché se bruciasse non sarebbe troppo positivo. E andiamo ad aggiungere un altro po' qui sulla fronte. E adesso devo smettere di spalmarla, perché altrimenti poi diventa difficile da togliere. Va bene, tesoro. Adesso tu rilassati nel tempo che questa maschera asciuga. E ci vediamo tra un po', una decina di minuti, ok? Bene, tesorino, bene. Bene, tesoro. Vedo che ti sei rilassata bene, bene. Sì. Ma ti sei anche addormentata? Un pochino, eh? Beh, ci credo. Sai quando uno si fa fare le coccoline, fa un po' di trattamenti per la bellezza, si lascia un po' andare, no? Quindi è anche più normale che mollando i pensieri, lasciandosi andare appunto alle coccole, venga più facile addormentarsi. Dunque, vediamo un po' questa maschera, diciamo, che è pronta. Quindi io proverò ad andare a toglierla, eh. Qua è ancora un pochino fresca, ma dovrebbe staccarsi, perché sui lati un pochino tende ad accumularsi, vedi? Sì, e poi non si secca molto. Eccola qua che sta. Sta venendo via. Forse andava lasciata un altro po', solo che avendo la pelle così giovane, ho ritenuto meglio per te. Toglierla un pochino prima e non lasciarla troppo tempo in posa. Ah, senti dei rumori? Beh, abbiamo anche i piccioni qua, oltre che i gatti. Questo centro di bellezza si trova in una zona densamente abitata, non solo da persone, ma anche da animali. Ecco, vedi? Qua ha tirato di più. Qua ha tirato di più ed è venuta via, perché ne avevo messa di meno, forse. Ed è asciugata. Qua rimane un po' fresca, quindi rimane un po' difficile da togliere. Guarda, lo mettiamo qua, eh. Vediamo, su quest'altro lato, anche qui sul lato è rimasta un po'. Eh sì, sui lati è gocciolata, è rimasta più, un pochino più spessa e quindi, vedi, fa fatica. Nonostante tutte le attenzioni, vedi, ti ho anche un pochino sporcato i capelli. Ah, ma li dovevi lavare, meno male, meno male. Eh beh, sì, queste mascherine sono un pochino poco gestibili, eh. No, vabbè, dai, finiamo di toglierla con il pannino, eh. È piacevole, vero, questo suono? Molto carino, vero? Allora, prendiamo il panno che nel frattempo avevo sciacquato e sterilizzato nuovamente con l'acqua calda, eh. Vediamo, vediamo un po' se adesso con questo riusciamo a togliere ogni residuo, ogni residuo, sì, vedi che con questo viene via tutto. Ha un buon profumo, vero? Sì. Eh, questa maschera è veramente ottima. Peccato che ci voglia un po' di pazienza, perché appunto asciuga molto lentamente, soprattutto nei punti in cui ce ne va un pochino di più. Vabbè, la prossima volta se la rifacciamo vorrei dire che ti lascerò dormire mezz'ora invece di dieci minuti, eh. Ti prenoto una stanza per un pochino più di tempo, così almeno non c'è fretta e facciamo con calma, eh. Oppure ne proviamo una nuova, insomma, vediamo. Un pochino sui capelli anche è andata. Vabbè, meno male che tanto hai detto che li dovevi lavare, quindi. Comunque mi raccomando, poi vai da quella mia amica tricologa specializzata, perché sinceramente non capisco questi... Ne hai veramente tanti di capelli spezzati qui alla cute, vedi come sono corti. Un pochino è normale, ma così mi sembra veramente tanto. La tua amica invece, Ophelia, ho visto che a lei non gli si spezzano, però ne ha un po' meno di te. Eh, sì, i suoi sono tutti lunghi, lunghi. Però li ha meno fulti, tu ne hai tanti. Ebbè, è anche una cosa genetica, eh. Perfetto, 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 perfetto. Dunque, cara, adesso vado ad applicarti semplicemente questa cremina. È una crema anti-age, rivitalizzante. Sì, te l'ho detto, è sempre per una questione di prevenzione, eh. Anche se sei giovane, ma insomma. Andiamo ad applicarla un po'. Un pochino qui, un pochino qui, un pochino qui e un pochino qui. Andiamo a massaggiarla un pochino adesso, eh. Anche questa si ha una profumazione delicatissima, senti. Ottima, vero? Ma tu fai una skin care a casa? Eh, beh, sì, infatti, è una pelle così per quanto tu sia giovane, insomma. Si vede che è una pelle curata, eh, quotidianamente. Certo, latte detergente, tonico. Hai già iniziato anche con il siero? Sì, tanto anche i sieri ci sono un po' da tutte le età, eh. Non è necessario mettere quei sieri fortissimi, perché la pelle, insomma, è già piena di rughe. Un po' di massaggino per riattivare la circolazione del viso. E' quasi tutta assorbita, eh, guarda. Sì, è ottima. E' ottima questa crema, veramente buona. Sì, è un po' cara, ma insomma, dura anche tanto. Bene, tesoro bello. Dunque, Anastasia, io adesso vado a toglierti la passata o cerchietto, come lo chiami tu? Passata, anche io. Andiamo a togliere questo cerchietto. Ti dava fastidio? No? Bello. Andiamo a togliere la mantellina. Ecco, andiamo a togliere anche la mantellina. Abbiamo tolto. Adesso ti do una giustatina ai capelli. No, no, non rientra nel, non rientra assolutamente nel trattamento questo. E' che non voglio mandarti via tutta spettinata. Visto che te li ho arruffati un po'. Comunque, insomma, non mi va di far uscire le mie clienti con tutti i capelli arruffati. Ah, no, poi, insomma, i tuoi appunto sono così belli. Ma che prodotti usi per i capelli? Naturali o siliconici? Ah, ho capito. No, io, se posso, magari preferisco le cose naturali, soprattutto per le creme, per i capelli, però non ho problemi anche ad usare altro. Ora, ovviamente, devono avere comunque un buon enzio, eh. Perché non voglio che ci siano parabeni, pecca o altre sostanze dannose, no? Se posso, quelle le evito. Eh, lunghi così è difficile mantenerli. È vero, lunghi così è molto difficile. Ma a casa che fai gli attrecci a volte? Fai l'attreccia? Eh, certo, così almeno ti stanno in ordine. Beh, non li tenere legati stretti, eh. Perché anche quello favorisce, diciamo, il danno al capello. Tendono a spezzarsi un po'. Eh sì, purtroppo sì. Bene, tesoro, bello. Cara Anastasia. Senti, se vedi Ophelia, salutamela. Dille che quanto vuole. Sono qua. Allora, cara, senti, tu se vuoi, tanto non ho una cliente subito, ho ancora una decina di minuti prima della prossima. Quindi se ti fa piacere puoi rimanere qui, alzarti con calma, rilassarti, dormire un altro pochino, eh. Quindi non c'è fretta. Va bene, tesoro? Ok. Va bene, Anastasia. Ci vediamo allora presto. Alla prossima volta, ok? Va bene, tesorino, va bene. Ciao, cara, ciao. Ara, sulle, E, S, N, A.